Ciao a tutti! Nuova video riflessione derivato dall'impulso di parlare di fronte ad una foto scioccante che molti di voi mi hanno inviato, infiniti di voi, me l'avete spammata ovunque, anche quando avevo già detto di averla vista, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook personale, via mail, ma continuano tuttora e allora ho detto facciamo un video per parlare di questa cosa e soprattutto focalizzarci sulla questione che cos'è la lettura, perché evidentemente è un grosso problema anche dove non dovrebbe essere un problema, ovvero in alcune scuole, secondo me. In questa foto si vede la classica scheda che i professori, in questo caso il professore o la professoressa l'italiano, ha lasciato a una sventurata classe di liceo, non mi ricordo se è un liceo o un professionale, comunque una scuola superiore, c'è una lista di libri da leggere durante le vacanze, come in quasi tutte le scuole. Perché si danno dei libri da leggere durante le vacanze? Si può parlare quanto si vuole sulla scelta obbligata di determinati titoli, di non lasciare leggere quello che si vuole, però in linea generale perché i professori d'italiano danno i libri per le vacanze? O danno dei libri che si focalizzano sul programma dell'anno successivo e quindi che ne so, danno un classico perché se ne parlerà? Oppure se sono solitamente, se sono delle letture contemporanee, sono delle letture contemporanee che sono adatte al target, quantomeno di solito dei libri facilmente approcciabili dagli adolescenti che però sono ritenuti dei libri di un certo livello, quantomeno di scrittori noti, amati. Il motivo è sia per cultura generale dell'alunno che per avvicinare gli studenti sia alla lettura ma soprattutto all'analisi, perché non dobbiamo dimenticare che in fase, soprattutto all'ultimo anno della maturità, essere pronti e preparati per analizzare un testo è fondamentale se non si sceglie il tema, se non si sceglie il saggio breve. Quindi come arrivare preparati a un'analisi del testo se non si legge? È vero che lo si può fare seguendo le analisi in classe, ma la lettura ti aiuta molto anche per comprendere, più leggi più sei portato a comprendere un testo e più sei portato a sfruttare gli strumenti che il professore o la professoressa ti dà durante l'anno. E per quanto noioso possa sembrare per alcuni alunni leggere dei libri forzatamente nell'ambiente scolastico serve, secondo me. È inevitabile. Il problema cos'è? Che in questa scheda che mi è stata passata erano presenti dei titoli piuttosto scioccanti. Se ne salvavano due su quella lista. Gli altri erano libri trash, che tra l'altro ho già recensito alcuni, o che hanno recensito e demolito altri, che sono dei successioni da classifica per teenager, però non successioni da classifica da teenager tipo Harry Potter o Non mi vengono altri titoli, ma ci saranno sicuramente degli Young Adult belli, ma anche robe proprio frivole, stile Hunger Games, cioè andrebbero bene anche quelle. No, 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 qua si parla proprio del trash, trash grave. E sono dei libri che buona parte degli adolescenti ha letto o leggerà, perché sono i libri del momento, alcuni dei libri del momento. Ma quello che mi preme dire è, nonostante ci sia tutta la mia rubrica sui libri trash, io cerco di far capire che non si deve mai giudicare una persona in base alle letture che sceglie di affrontare, perché per quanto ci siano obiettivamente dei canoni di estetica e di profondità di un testo, di un'opera, che è in letteratura così come c'è nel cinema, così come c'è nella musica, però sono dei canoni che ci si aspetta, vengano rispettati dagli esperti del settore. Poi se qualcuno ha dei gusti affini, bene, altrimenti chi se ne frega, cioè ognuno nel tempo libero è giusto che legga, ascolti, guardi tutto ciò che desidera. Anzi, trovo molto brutto quando persone che sanno di avere dei gusti impopolari li tengano nascosti. Tipo io, è una cosa che mi sento anche colpevole, molto spesso, anni fa mettevo la sessione privata su Spotify, adesso non me ne frega più niente, perché se ho voglia di ascoltare una canzone trash non me ne frega niente di quello che pensano gli altri, anzi, la rendo trendy e tutti vadano al diavolo. Quindi non è quello il problema, il problema è proprio il contesto scolastico. Cioè dobbiamo considerare che se un professore lascia un libro, lascia un libro da leggere per l'estate, ci si aspetta che l'abbia letto. E anche se non è il capolavoro del secolo, ci si aspetta che venga tratto un messaggio. Ora, dobbiamo contestualizzare il corso di studi, quello che viene affrontato in classe per poter fare delle critiche mirate, perché se After di Anna Todd viene affrontato in classe, può darsi che o se lo da... mettiamo il caso che l'ha dato la prof di inglese da leggere in inglese, ha voluto scegliere un libro per teenager per migliorare la lingua inglese, poi che sia scritto male, chi se ne frega. Pur di far leggere qualcosa in inglese, ha detto leggete After in lingua originale. Va benissimo. Oppure, non lo so, leggiamo After, perché il corso è di marketing, anche se è una cosa che mi aspetto di più dalle università, però leggiamo After, ho fatto un titolo a caso, leggiamo After nel corso di marketing, ho 50 sfumature di grigio per capire quali sono i meccanismi che hanno portato questo libro a vendere milioni di copie. Ci può stare. Bisogna contestualizzare quel caso. Il problema è che molti mi hanno detto, cosa non fanno i professori pur di far leggere gli alunni. Ma in quel caso io non mi sento in affinità con il professore o la professoressa. Perché? Perché quando sono andato a scuola io ci davano dei libri mirati. Alcuni contemporanei, non lo so, a me facevano leggere Elsa Morante, Stefano Benni, Ammaniti, Baricco, quelle robe lì mi facevano leggere durante le vacanze estive dei contemporanei. Poi c'erano i classici, soprattutto per quanto riguarda le letterature straniere, ma linea generale erano quelli. E se funzionava, e non c'è nulla di male perché l'hanno fatto tutti, che se ti veniva andato un libro di cui non te ne frega niente, se ci si armava di compagni che l'avevano letto, ci si scambiava i riassunti. È una cosa orribile, è una cosa che si tace, ma si faceva. E poi magari durante l'analisi ad inizio anno scoprivi che quel libro per cui avevi dei pregiudizi, magari ti interessava pure, lo prendevi, lo leggevi a posteriori, ed era bello, è bello e trasgri allo stesso tempo. Il problema però è che non è tanto il libro trash in sé, il problema è il trash contestualizzato nella scuola, perché l'obiettivo della lettura nella scuola è quello di farti approcciare al mezzo libro. E nel caso in cui l'insegnante, togliendo gli esempi che ho fatto prima, quindi lettura in inglese, si sceglie un libro frivolo, oppure meccanismi di marketing, cavolo ne so, proprio per l'idea di faccio leggere un libro perché ho paura che i miei alunni non legano niente, cioè io da professore preferirei che i miei alunni non leggessero i libri che ho scelto e che se li fotocopiassero gli appunti dell'unico secchione della classe, veramente preferirei, cioè se lo venisse a sapere tutti in castigo e zero a tutti, altro che uno, però io preferirei anziché essere io professore a dare l'impressione di non aver fatto comprendere la mia posizione, perché se tu dai un libro orrido ai tuoi studenti, orrido nel senso non inerente all'obiettivo scolastico di didattica, e lo dai proprio per disperazione, vuol dire che per te leggere, per te professore, che si suppone tu apprezzi la letteratura, perché se insegni lettere do per scontato che ami la letteratura, ami scrivere, ami trasmettere questa passione, se tu dai, io nomino 50 sfumature di grigio, no, se tu dai 50 sfumature di grigio a scuola pur di far leggere qualcosa, allora significa che per te leggere quello e leggere Bukowski o Dostoievski è la stessa cosa, nel contesto scolastico dico, perché poi nella vita privata tutti sono liberi di leggere quello che vogliono, ma il contesto scolastico ha delle finalità, ripeto, il problema è che se è il problema è proprio l'atto della lettura, noi leggiamo tutti i giorni, perché se noi sullo smartphone scrolliamo la page, l'home page di Facebook, noi leggiamo gli aggiornamenti dei nostri amici, noi l'atto di leggere lo facciamo tutti i giorni, ma la lettura, inteso come approccio alla letteratura, è una cosa diversa, cioè non è che se tu canti, se un cantante canta tanti auguri a te, oppure Maria Callas è la stessa cosa, capito, non è che se un regista si mette a fare vacanze a Miami o quarto potere è la stessa cosa, ci sono toni differenti, oltretutto ci sta che magari il professore ha detto io voglio consigliare un libro leggero per le vacanze, ma avrebbe fatto secondo me migliore figura a consigliare un titolo inerente, oppure fare, leggete un libro scelta, poi ne parliamo, con l'assurdità che magari qualcuno si portava veramente 50 sommature di grigio, ma lì si risolveva tutta in una risata e si contestualizzavano le letture, per dire, così avrebbe anche senso capire che l'approccio è alle varie letture, no? E invece così secondo me è brutto anche perché l'obiettivo della scuola è anche allargare e arricchire gli orizzonti, perché noi, io prendo After perché è il libro del momento, ma potrebbe essere anche Paper Princess che è l'altro libro, mmm, trasgri? Il problema è che se tu devi arricchire gli orizzonti, perché consigli Paper Princess? Quando la povera ragazzina e inesperta di lettura che viene catapultata in libreria, la prima cosa che le fanno vedere in tutte le librerie è il cavolo di scaffale degli young adult, ma non gli young adult in generale, perché non è uno stereotipo che siano brutti, non è vero che sono tutti brutti, ma quelli young adult proprio brutti, addirittura sono entrato ieri alla Feltrinelli di Milano e c'era, proprio la prima cosa che vedevi era il reparto Millennial, e tu dici, vabbè sono i libri per ragazzi, no, no, le biografie degli youtuber te li piazzano lì come prima cosa, quindi immaginate le povere ragazzine, i ragazzini che entrano e già il mercato li obbliga ad interfacciarsi con dei titoli del genere, che creano delle sottoculture, che creano dei fandom, e quindi non riescono più ad uscire, e già loro giustamente nel tempo libero leggono quello che il mercato pensa sia inerente ai gusti degli adolescenti, ma la scuola ha un'altra finalità, se tu proponi le stesse cose a scuola, ci sono dei problemi, come fai a districarti? E quindi boh, a me questa cosa lascia perplesso, soprattutto perché in realtà il messaggio di questo libro è che leggere non è l'atto di leggere, leggere è la comprensione di un testo, è analisi di un testo, e riuscire a comprendere un testo è una cosa che richiede tempo, determina allenamento, determina anche la scoperta di un mondo, la ricchezza interiore, e la scuola dovrebbe insegnare quello, poi nella vita privata si può leggere anche solo i manuali di ricette di Benedetta Parodi, ripeto, però la scuola deve dare delle basi di sopravvivenza, diciamo, o quantomeno di cultura generale, e a me questa cosa premeva dirla, che leggere non è uguale, se tu leggi il manuale di strumento, il bigino del, se tu, ecco no, se tu leggi in realtà, tornando a prima, se tu leggi il riassunto di Ivanhoe, non è la stessa cosa che leggere Ivanhoe intero, anche se stai facendo la stessa operazione, stai mettendo in meccanismo gli occhi, il cervello, la bocca se legge ad altavoce, le corde vocali, ma stai facendo la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, è importante, perché in questo caso è il contesto che determina, è il nostro approccio al testo, come noi trattiamo quel testo, è importante, non scordatevelo, fatemi sapere cosa ne pensate, magari avete idee controverse e mi piacciono, fatemi sapere, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, vi saluto e alla prossima, ciao ciao!